Buonasera a tutti e benvenuti all'edizione della sera del nostro telegiornale. Il procuratore generale di Perugia, Fausto Cardella, durante il suo intervento per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del capoluogo Umbro, ha parlato del ruolo dell'informazione, dell'attenzione investigativa che richiede la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto e del codice degli appalti che definisce un ginepraio di disposizioni. Sentiamo. La funzione della stampa è fondamentale perché nella misura in cui controlla l'operato della magistratura, concorre al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia, ma sembra giunto il momento di una riflessione comune tra magistrati, avvocati e giornalisti per separare ciò che è informazione da ciò che è spettacolo. È quanto affermato il procuratore generale di Perugia, Fausto Cardella, durante il suo intervento per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del capoluogo Umbro. L'informazione nel distretto, ha sottolineato, è stata complessivamente corretta, rispettosa dei diritti degli arrestati. Cardella ha poi parlato dell'attenzione investigativa che richiede la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto per neutralizzare il rischio che vi si inseriscano malintenzionati organizzazioni criminali con l'unico obiettivo di speculare sulla disgrazia di coloro che hanno perso i loro beni e la loro tranquillità che invece meritano il nostro sostegno e la nostra protezione. Per il magistrato comunque non si colgono segni di radicamento nel territorio Umbro di organizzazioni criminali riconducibili alle tradizionali mafia camorra in drangheta. Cardella ha parlato in particolare di organizzazioni criminali particolarmente attive nel settore della movimentazione della terra, dell'edilizia, del ciclo, del cemento e in quello dello smaltimento dei ditritti e dei rifiuti. Il codice degli appalti un ginepraio di disposizioni non sempre chiarissime e spesso contraddittorie va rivisto se non addirittura soppresso, ha sottolineato Cardella, per il quale occorre sostituire al principio che sembra adesso sotteso, quello della complessità degli accertamenti e delle verifiche preventive degli addempimenti senza alcuna reale utilità, il diverso criterio della semplificazione con correlativa responsabilità. È illusorio pensare, ha aggiunto, che la moltiplicazione degli addempimenti e dei controlli preventivi ostacoli la corruzione, perché semmai, ha concluso Cardella, è esattamente il contrario, giacché ogni impedimento, ogni ritardo può esserne occasione. Parliamo ora dei diversi casi di immigrazione clandestina nella provincia di Perugia. 14 provvedimenti di espulsione adottati fino a questo momento, dall'inizio dell'anno. Paolo Pianigiani. L'immigrazione clandestina è sempre nel mirino delle forze dell'ordine che dall'inizio dell'anno hanno sottoposto 14 stranieri, in gran parte autori di gravi reati, a provvedimenti di espulsione. Per 11 di loro è stato disposto il rimpatrio con immediato accompagnamento coattivo alla frontiera. Le attività di contrasto all'immigrazione clandestina sono state eseguite dalla questura di Perugia, con l'incisivo contributo del comando provinciale dell'arma dei carabinieri. Per sei cittadini albanesi, cinque uomini e una donna gravati di vari reati dalla droga ai furti, è stato disposto l'accompagnamento alla frontiera aerea di Sant'Egidio ed il rimpatrio su un volo per Tirana, mentre per altri tre albanesi detenuti al carcere di Capanne è stato disposto, come misura alternativa alla detenzione, l'accompagnamento alla frontiera aerea di Fiumicino, con la scorta del personale dell'ufficio immigrazione della questura fino a Tirana. L'espulsione come misura di prevenzione è stata applicata anche per un cittadino marocchino 21 anni che era stato fermato dai carabinieri a Gualdo Dadino, autore di vari reati tra cui violenza sessuale è stato accompagnato alla frontiera aerea di Bologna per essere rimpatriato nel paese di origine. Anche un cittadino tunisino di 49 anni ha subito il rimpatrio dopo l'arresto avvenuto per spaccio di stupefacenti con la scorta fino a Tunisi dagli agenti dell'ufficio immigrazione. Altri tre cittadini stranieri sono stati accompagnati al CPR, centro di permanenza per l'impatrio. Due donne, una nigeriana e una dominicana, che era andata in questura per denunciare lo smarrimento del passaporto, ambedue riconosciuti irregolari sul territorio nazionale, sono state condotte al CPR di Roma, mentre un tunisino arrestato a Perugia per detenzione e spaccio di stupefacenti è stato accompagnato al CPR di Caltanissetta. Continua a far discutere il caso dell'E45 dopo la chiusura del viadotto Puleto. La Regione ha chiesto lo stato di emergenza. Sentiamo Elena Ballarani. Le gravi conseguenze e i disagi arrecati dalla chiusura del viadotto Puleto sull'E45, posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Arezzo, continuano ad essere al centro del dibattito pubblico e politico. Il Partito Democratico ha indetto un'assemblea pubblica che si è tenuta a città di Castello, territorio che risente fortemente della chiusura del viadotto e che rischia l'isolamento. Le preoccupazioni per il futuro sono forti, specie pensando alle aziende del territorio che nel lungo periodo risentiranno fortemente della chiusura del tratto di strada che collega con il Nord-Est. Le nostre aziende, ha infatti affermato, il sindaco Tifernate e Luciano Bacchetta già stanno soffrendo gravemente per la chiusura. Ma la Regione insieme alle altre Regioni, perché questa è un'infrastruttura che attraversa diverse Regioni, ha chiesto al Ministero, sia nella riunione che c'è stata e poi lo farà nei giorni successivi, intanto di poter capire, di mettersi d'accordo i tecnici di ANAS con quelli della Procura per avere una certezza della realtà delle cose, di poter riaprire la viabilità, anche se è quella più leggera, naturalmente nelle condizioni di sicurezza, di farsi carico della viabilità alternativa per avere un'alternativa, una strada che appunto in certe parti dell'Umbria non ha un'alternativa. I Presidenti della Regione Toscana Enrico Rossi e Emilia Romagna Stefano Bonaccini hanno nel frattempo avanzato una richiesta di emergenza nazionale che ha incontrato il pieno sostegno dei sindaci della Baltiberina. Siamo in un territorio privo di valide alternative di collegamento e ogni giorno che passa, affermano, in attesa di un auspicabile dissequestro e sblocco parziale della E45, vede emergere forti penalizzazioni per aziende e imprese locali, con un'evidente riduzione della produzione e con l'impossibilità di assolvere alle commesse, con notevoli difficoltà per studenti e lavoratori pendolari e segnali negativi e preoccupanti anche nel settore dell'accoglienza e del turismo. Sta suscitando commozione ad Acquasparta la storia di un 68enne trovato morto nel letto della sua abitazione, probabilmente deceduto per cause naturali da oltre un mese. Nessuno, in base a quanto si apprende dai carabinieri, ha chiesto notizie dell'uomo originario del Messinese, arrivato in Cirtà da circa un anno dopo aver abitato in altre parti d'Italia. E Don Alessandro Fortunati, parroco di Acquasparta, in una lettera pubblicata sui social, chiede scusa all'uomo a nome di tutti. A proposito delle ultime polemiche per un presunto depotenziamento dell'ospedale di Terni, è intervenuto in audizione a Palazzo Spada l'assessore regionale alla Sanità Luca Barberini. Sentiamo. Non sarà minimamente toccata l'organizzazione della struttura ospedale di Terni dal nuovo piano sanitario regionale e non ci sarà alcun depotenziamento dei servizi. Pertanto le osservazioni fatte da più parti in maniera del tutto strumentale non trovano alcun fondamento anche perché il nuovo strumento di programmazione sanitaria ad oggi non è stato ancora definito né esiste alcuna bozza preadottata dalla Giunta. Luca Barberini, assessore regionale alla salute, è stato molto netto nel corso di un'edizione in Commissione Salute del Comune di Terni sui temi della sanità locale. L'azienda ospedaliera di Terni, aggiunto, rappresenta un fiore all'occhiello della sanità regionale e continueremo ad investire risorse per il suo sviluppo, per la valorizzazione dell'alta specialità e per la realizzazione della città della salute. I numeri rispetto al 2013 dicono che c'è stato un incremento di oltre 90 operatori. Entro il prossimo giugno verranno coperti tutti i primariati e abbiamo recentemente approvato il nuovo bisogno di personale delle quattro aziende sanitarie regionali e quella di Terni è stata utilizzata ad assumere 122 nuove figure, il numero massimo di tutti. Sono proseguiti gli interventi di adeguamento strutturale e impiantistico, le procedure di acquisto delle nuove tecnologie con un investimento complessivo di oltre 11 milioni di euro. Grazie ai lavori realizzati di recente sono state realizzate due nuove sale ibride angiografiche con il blocco operatorio che passerà da 10 a 12 sale con la possibilità di aumentare l'attività del 20%. Sono stati completati i lavori del pronto soccorso con un ampliamento del triage e degli ambulatori. Sono stati spostati e migliorati la pediatria e la radiologia. È stato ascoltato in seconda commissione regionale il responsabile coordinamento ANAS Raffaele Celia in merito alla messa di sicurezza della variante Piandassino anche a seguito di numerosi incidenti alcuni dei quali mortali. Prevediamo l'installazione di tutor per il controllo della velocità assicurato attraverso un nuovo sistema in fase di sperimentazione in attesa di omologazione da parte del Ministero. Previsto entro quest'anno anche un altro dispositivo denominato sorpassometro ma anche la possibilità di installare recinzioni non impattanti per evitare attraversamenti della fauna selvatica. Oggi i consiglieri di Forza Italia Antonio Traccheggiani e Armando Frunduti hanno presentato l'ordine del giorno. Nuova pista ciclabile a Perugia a Pian di Massiano Decathlon. Sentiamo Valentina Baldoni. Una pista ciclabile pedonale che collega Pian di Massiano con la zona commerciale di Olmo. 4 chilometri che partono dallo stadio Curi passando per l'ipogeo di San Mano a ferro di cavallo via lungo la strada tra Simeno Ovest di Olmo per arrivare nei pressi del centro Decathlon. Due chilometri di tratto sarebbero pronti per gli altri due e già depositato il progetto che è stato presentato stamattina in conferenza stampa dai consiglieri comunali Armando Fronduti e Antonio Traccheggiani di Forza Italia e che verrà proposto in consiglio comunale. Il comune ce l'ha già all'interno degli uffici tecnici però chiaramente la politica bisogna che lo portiamo in consiglio comunale. Il nostro ordine del giorno parla di questo percorso ciclo pedonale che inizia dalla Decathlon. Esiste già una parte esistente e una parte chiaramente è che è da costruire. Però insomma è poca roba da poter costruire perché è già presso a poco tracciato. Un progetto che favorisce la mobilità alternativa dedicato non solo agli sportivi ma a tutti coloro che si vogliono muovere a piedi o in bicicletta in sicurezza. I tempi? I tempi penso che questa è una volta definite tutti i livelli chiaramente che vengono fatti e il percorso io penso che ci vorrà un anno in 12 mesi insomma se riesce a ricostruire benissimo insomma questo percorso, questo nuovo percorso ciclo pedonale. L'amministrazione provinciale di Terni rende noto di aver sporto denuncia alle autorità a seguito del furto di due semafori lungo la strada provinciale Tre Terra Taizzano di Narni. Il fatto è avvenuto sabato scorso presumibilmente durante la notte quando i gnoti hanno rimosso e portato via i due impianti collocati sulla carreggiata. I semafori erano stati installati per regolare il traffico a senso unico alternato dopo il cedimento di una porzione di muretto di sostegno in un tratto di strada vicino al centro abitato.